ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi andiamo in anteprima con una novità assoluta di fox da venire a vedere insieme eccoci qui ragazzi pronti alla presentazione di questa novità assoluta di fox ringrazio tantissimo eta betastore per la disponibilità di questa presentazione visto che al momento in questo momento in cui vi sto facendo la recensione il pezzo ragazzi è praticamente in anteprima sotto ragazzi vi lascio ovviamente i riferimenti per andare a prenderlo da eta betastore con il codice sconto tutto sotto la descrizione video quindi grazie mille eta betastore proprio per la possibilità di fare questa anteprima globale ragazzi ragazzi di cosa stiamo parlando attenzione andiamo di qua andiamo di qua stiamo parlando dell'fx 556 a2 ragazzi meglio come conosciuto come il metamorfosis ragazzi coltello secondo me da collezionista un coltello da guardare da giocare ragazzi anche nella descrizione sul sito fox dicono di aver aggiunto proprio alla radius lock il movimento di apertura che adesso andiamo a vedere il flipper proprio per consentire il gioco apro chiudo apro chiudo il flipping il gioco del coltello ragazzi che quindi secondo me sposta un pochettino il coltello che ovviamente è un coltello quindi lo potete utilizzare ma lo sposta molto sulla fase collezione di sì collezionismo un coltello insomma ragazzi che ha il suo prezzo quindi si sposta nella parte super appassionati secondo me collezionisti ragazzi lo andiamo a vedere sì dai che vi ho fatto vedere la scatoletta andiamo a vederlo ragazzi eccolo qua fatemi mettere i pezzi al contrario perché oggi ha piovuto e quindi non posso metterli dal solito lato che è di qua ragazzi scatoletta fox sotto avete tutte le vostre cosine andate a vederle qua vi lascio i siti contatti e qui abbiamo l'etichetta che ci fa vedere il nostro fx 556 a2 loghino di fox eccolo lì ragazzi dai andiamo a vedere il coltello dentro abbiamo attenzione abbiamo la nostra bella poch in nylon con attaccato ovviamente col velcro il metamorfosis eccolo lì simbolito del metamorfosis col logo della fox knifes perfetto attenzione ragazzi perché dentro abbiamo un coltello che ha vinto dei premi quindi ci mettono dentro il tagliandino che ci dice che ha vinto l'IWA Knife Award 2024 come innovation ok e dietro di qua ha vinto anche nel 2023 l'European Product Design Award quindi qui avete tutto avete detto il tagliandino che vi dicono cosa ha vinto il nostro coltello nostro ragazzi made in Italy ripeto sempre andiamo fieri del made in Italy tagliandini così mi ve li guardate voi quello che dovevo farvi vedere secondo me era quello ecco qui la nostra bella poch ragazzi aprite la vostra poch nylon senza passaggio mi sembra si senza passaggio cintura dentro abbiamo il sacchettino in Utah con loghino fox e dentro attenzione e dentro opla 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 eccolo qui ragazzi eccolo qui nella sua bellezza ragazzi forme particolari forme particolari quindi può piacervi o può farvi proprio cagare se vi piace vi piace di brutto se non vi piace non vi piace per niente ha le forme molto particolari questo metamorfosis di fox ragazzi bello veramente bello ragazzi veramente veramente bello radius lock ragazzi è praticamente comandato eccolo qua mi sembra che l'abbia inventato non volete dire una stupidata Dennis Simonutti ok questo radius lock come funziona si schiaccia il tastino libera la lama e poi si può spostare tranquillamente il vostro bello indicino ok schiaccio chiudo schiaccio apro ok il tastino si preme ok si preme per liberare la lama sia in apertura che in chiusura in più come avevo detto hanno aggiunto il flipperone in modo tale che chi è strippatissimo può giocare a far tutte le sue cose con il coltello ragazzi giusto non vi ho fatto vedere come altaia vi faccio vedere subito eccolo qua fogliettino e andiamo a vedere come taglia beh ragazzi come taglia come taglia taglia benone intanto è arrivato è arrivato elwood magari vedete la coda no non la vedete però è qua di fianco a me ok elwood mi raccomando non fare bordello che sto facendo la recensione ragazzi è un pezzo molto particolare soprattutto con questa lama ragazzi ship foot una mozzetta alla fine una mozzetta moderno sarei dire ragazzi è un pezzo molto molto particolare o vi piace o non vi piace qui la via di mezzo veramente non c'è sulla centratura ragazzi siamo alla perfezione perfezione complimenti a fox per la centratura ragazzi veramente bel pezzo bel 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 pezzo di cosa parliamo ragazzi come materiali parliamo di una lama in m3 90 eccolo lì che lo vedete affilata da paura complimenti a fox per l'affilatura di questo m3 90 taglientissimi uno dei più taglienti mai provati come m3 90 abbiamo una manicatura in micarta e mostrine distanziale posteriore in titanio rivestiti con questo rivestimento nero in pvd sono titanio è arrivato anche jack ragazzi non mi fate casino ve li faccio vedere eccoli lì come avete visto sono lì tutti e due ragazzi così abbiamo anche spostato la telecamera ma voi interessa il coltello i gatti i gatti prima di tutto ragazzi non mi fate scherzi ve li faccio vedere perché so che ermanno ermanno di etabetastorra è un amante anche lui dei gatti quindi mi sembra giusto farveli vedere ragazzi detto questo ragazzi il coltello è veramente un bel pezzo è veramente veramente un bel pezzo una volta che iniziate a prendere confidenza con questo movimento con questo meccanismo secondo me ci diventate matti se vi piace veramente giochicchiare con il coltello è un coltello con cui giochicchiare diventa veramente una droga ragazzi la costruzione non prevede cartelle interne sinceramente me le sarei aspettate ragazzi ecco lì metamorfosis all'interno sul distanziale in titanio me le sarei aspettate anche perché ragazzi le mostrine sono attaccate alla guancetta direttamente alla guancetta ora parliamo di micarta ovviamente non di burro sicuramente le loro prove di resistenza del coltello le hanno fatte io sinceramente è un coltello che utilizzerei per tagliare senza andare a farci proprio degli abusi il dittino davanti lo potete mettere ma dovete stare attenti ragazzi radius lock tanta roba ragazzi non vi ho dato le misure ve le do ve le do ve le do allora nella sua interazione misura 23 centimetri con questa lama mozzetta shift chiamatela come volete ragazzi di 9 centimetri sullo spessore di 4 mm in m3 90 pesa 135 grammi e la mia versione ci sono tantissime versioni molto componibile coltello in versione colori materiali la mia versione ha rivestita la lama e le mostrine nel distanziale in pvd nero ragazzi la micarta è una micarta nera sabbiata molto 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 bella ragazzi per me è un bel coltello veramente un bel coltello se veniamo al prezzo parliamo sempre di prezzi da appassionato collezionista il coltello a prezzo pieno costa 319 euro ragazzi è bello si è un bel coltello ragazzi molto molto particolare o vi piace o non vi piace è fatto da dio ragazzi è fatto da dio anche sto movimento qua una volta che iniziate a giocarci ciao proprio fatto da dio precisissimo centratissimo perfezione assoluta la clip è in acciaio e ribaltabile ecco magari una clip in titanio io ce l'avrei messa però qui l'hanno messa in acciaio ce la teniamo in acciaio ragazzi movimento scattantissimo insomma abbiamo un bel coltello un bel coltello con cui ripeto se volete giocare con l'amorosa invece di giocare con le tettine dell'amorosa vi divertite di più a giocare con il coltello pigiate il pistolino qui il capezzolino aprite e chiudete ragazzi radio slot per me la prima volta che lo provo lo trovo veramente da drogati a ragazzi nel senso che poi diventati dei tossici del radio slot e continuate a giocarci bello 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 mi piace ragazzi mi piace mi piace diventa divertente diventa veramente divertente ragazzi il coltello è veramente bello sotto vi lascio il link per andare a sciaparvelo se lo volete anche per leggere le specifiche tutto da età beta store avete anche lo sconto sotto codice sconto che vi lascio ragazzi bel pezzo bel pezzo bel pezzo se siete degli appassionati se vi piace giocare con il vostro coltello se vi piace fare le vostre scippa 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 qua fatto tutte le mie robe poi lo apro tipo i dj che vanno a screcciare voi screcciate con la vostra bella lamina se vi piacciono ste cose ragazzi è un coltello che secondo me vi toglie delle belle soddisfazioni da appassionati da collezionisti secondo me è veramente un bel pezzo ovviamente ragazzi degli utilizzatori utilizzate il coltello per tagliare la mortadella e dei coltelli non ve ne frega nulla sono d'accordo con voi pigliatevi un opile ci fate le stesse cose ragazzi questo è un coltello da appassionati e secondo me è molto da collezionisti ragazzi andiamo alle conclusioni finali fox metamorphosis ragazzi novità assoluta di fox un coltello molto particolare un coltello che secondo me può piacervi o non piacervi la via di mezzo non c'è soprattutto in questa versione in questa versione ragazzi con la machine foot che a me ricorda una moderna mozzetta ragazzi materiali di prima micarta titanio m390 affilato da dio blocco radius lock ragazzi un coltello secondo me da appassionato da collezionista ovviamente ragazzi ha il suo prezzo inutile stare a continuare a rimangarla con questi prezzi lo potete comprare lo comprate non lo potete comprare non lo comprate i prezzi ormai sono questi ragazzi i prezzi per un appassionato per un collezionista ragazzi sono questi se vi interessa un coltello per tagliare il salame va benissimo anche l'opine quindi se siete appassionati e collezionisti secondo me ragazzi questo è veramente un bel pezzo una novità assoluta di fox ragazzi dal fox metamorfosis dal parcetto del tagliagole tutto buona giornata e ciao iscriviti al canale grazie a tutti